CONCORSO IPPICO Subito dopo aver saltato uno stavolo. Ed ecco Raimondo D'Inzeo in sella al pedele Merano compiere quel percorso prefetto che gli darà la vittoria. Il nostro grande cavaliere non si accontenta. Conquista pure il secondo posto montando positivo. La sua alta classe ci fa sperare per le Olimpiadi.